ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi sono veramente, veramente, veramente contenta perché abbiamo un nuovo fratellino nel canale un nuovo duellino che è il fratello maggiore del Tascam DR-05 sto parlando di lui il Tascam DR-40 ho sempre amato l'audio del Tascam trovo che saldino tantissimo i Mount Sounds sentite? trovo che siano adattissimi per l'audio ti vuole cose leggere e oggi voglio fare un video veramente semplice facciamo un po' la prova di questo microfono con me lo faccio molto molto dolce per cercare di esaltare il più possibile le sue caratteristiche proveremo appunto i suoni e mi direte voi quali rendono più con questo e quali è un po' lì ho qui con me un po' di oggetti però sapete che la prima cosa che mi piace fare quando fai mano a un microfono questo è parte del Tapping 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 sopra quelli e quindi sicuramente se ho fatto il punto il tipo di audio è molto 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 simile al Tascam di R05 ma dovrebbe essere un po' più pulito inoltre questo microfono ha anche due uscite qui sotto quindi può essere attaccato ai robot per esempio come lo zoom H5 molto presto molto presto molto presto allora il video di confronto di tutti i microfoni che mi aspettavo a farlo almeno finché il mio italiano sta veramente peggiorando ho aspettato a farlo finché non avessi potuto almeno comprare questo microfono meglio questa vorrei comprare anche un altro con le orecchie perchè quello che adesso è un po' rotto per questo non lo sto usando anche se avrei tantissimo fare un'ora e play visita le orecchie così mi spiace un sacco per appunto voglio farmi sentire le differenze confronterò tipo altri come il tapping il sound il brushing il whispering il whispering il loud per farvi sentire la differenza e come rendono i diversi trigger con i diversi microfoni proviamo adesso però un po' di click perchè secondo me con questo microfono rende ok abbiamo la tapping magari per farvi sentire Grazie a tutti. Non so cosa si scarica, però ne ho anche la fotografica che sta morendo, è una batteria che andrà ampeggiando un po' di rosso, quindi spero duri almeno un quarto d'ora, spero altri sette minuti di scaturare. Per finire, mettiamo questi altri trick, adesso ne faccio un altro giusto per... Allora... Ho qui un trick che non portavano un po', un trick che era un po' natalizzi. A proposito, a proposito, a proposito... Se volete, datemi delle idee per i video di Natale, vorrei fare due o tre speciali quest'anno. E non so, mi piacerebbe che voi mi deste le vostre idee in modo che io vorrei rilavori, perché li rilavoro sempre, però mi piaceva davvero tanto. Sì, fare un po' di video speciali, però speciali, speciali davvero, diversi. Magari uno classico o due classici, uno diverso. Come il doppio, secondo me anche il doppio in grande modo. Perchati un traduzvere, del cuore. Perchati un po' nachaccare... Calvo solo... Il raccoglio. Viate da un fluo in grande modo, molto più tardi. mi commenterete sicuramente questo minuto perché mi sono un attimo distraffata di stare dal suono a volte finite che mi perdo perché mi rilassa tanto il suono a volte a volte mi adoro ma adoro il bambino volevo fare un piccolissimo chantelle non è il burro che fa il dorsone in assoluto però allora questo video in realtà è stato per essere un haul make-uposo in realtà questo video l'ho registrato anche ieri però non ero davvero soddisfatto di come stava venendo non so, non ero nel mood, non avevo le cuffie sbagliate non ho tipo buttato 20 minuti di video e ho deciso di rifarlo e te l'ho pensato per essere un video haul come anche di un nuovo make-up che ho comprato che alla fine vi ho mostrato su instagram dove mi trovate come ripetiamo tutti insieme chiare.sml ripetiamo ancora chiare.sml e in quel video punto dove erano di si chiamano di refill quindi li ho tutti messi nella palette vuota e poi andavano di togliere tutto fra loro c'è anche questo che è un burro daccao dell'aike mille al gusto non ciotella sono le attolci labbra dell'aike mille c'è il profumo non vi dico non mi ricordo quanto costa mi ha piaciuto i 5 euro quindi medio però ha la consistenza che piace a me quindi vedete che non mi rende le labbra lucide però lei idratta bene fa un tipo una specie di leggerissimo film protettivo non so però non è troppo duro da formare dei crumetti da spezzarsi perché mi sono capitati anche quelli purtroppo è completamente naturale e cercavo anche un burro cacao così perché ho pesato un momento tutti i giorni sulle labbra praticamente lo mangio lo voglio almeno naturale e poi questo è ecologico a megano e soprattutto ed è stato per i metalli pesanti e questa è un'altra cosa che mi tenevo tanto 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 perché appunto essendo un prodotto che metto sulle labbra addirittura io fondamentalmente me lo mangio per me è importante e quindi sto comprando anche i link per capire e facerà le sticker in modo un po' più cosciente adesso voglio cominciare a comprare in modo un po' più cosciente su Instagram mi avete consigliato anche altri gusti di questi dolci labbra perché mi avete detto che sono tutti buonissimi che penso che penso che nessuno batterà mai non c'è bello adoro come l'abbè a destra a sinistra mi piace come l'abbè a destra a sinistra mi piace a sinistra ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua io spero davvero questo mi viene perlazato un po' più cosciente un po' più cosciente un po' più cosciente mi piace se non l'avete ancora fatto mi è piaciuto il video perché riesco veramente a capire quanto piace sia nei commenti sia dal numero di mi piace di Disney e e e e sono i motivi un tipo di e so che dovrei chiedere il video però mi piace troppo 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 l'audio e quindi stai lì per ora mi succede ogni volta che compro un microfono nuovo però infatti è ora lì Luci che Chi mi 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 di e penso si aggiunga l'ora di abbassare l'equipo e augurarvi una buonanotte 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 fin da sue truñi per asciughi buono 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 e quindi Buonanotte, buonanotte, buonanotte pasticcini mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di questo microfono è molto molto importante Buonanotte, buonanotte, buonanotte pasticcini, buonanotte pigna e lacrima che li spera Grazie